Contento sì, anche se non essendoci il patos di un'assemblea con dei concorrenti, la soddisfazione viene stemperata dalla responsabilità, perché comunque io e il gruppo dei miei consiglieri avvertiamo sicuramente questo mandato come un impegno a lavorare, ci dà un grosso senso di responsabilità che dobbiamo cercare di fare bene, di continuare a fare bene, perché il nostro movimento a livello regionale ha bisogno di questo. Non c'è mai un discorso di classifica, Presidente, ma la federazione italiana Pallavolo è una delle federazioni più importanti d'Italia. Sì, tra l'altro siamo chiamati, credo, come sistema Abruzzo, l'ho definito io, a dare delle risposte tutti insieme, perché altrimenti noi non riusciamo a mantenere quel ritmo, quel livello di attività che abbiamo fatto, soprattutto mi riferisco ai grandi eventi. Noi abbiamo bisogno di una regione Abruzzo che ci stia vicino, che ci dà delle risposte, che io ho individuato ben precisamente. Dobbiamo climatizzare il Palasport di Roseto, dobbiamo riuscire a fare un centro federale di beach volley, perché con queste risposte date da tutto il sistema Abruzzo riusciremo a coinvolgere anche aziende, sponsor, risorse, che sicuramente ci consentiranno di continuare il nostro percorso di crescita.